Ciao ragazzi, bentornati al calendario dell'avvento. Vediamo oggi cosa c'è nel nostro sacchetto. Della lana e degli aghi. Chissà cosa serviranno. Il petti rosso e babbo natale. C'era una volta un piccolo uccellino marrone. Si chiamava Robin e questa è la sua storia. Era la settimana prima di Natale e il piccolo Robin era emozionato. Lavò e stirò sette vestitini per le gelide giornate in arrivo. Indossò il vestito bianco e andò a pattinare sullo stagno ghiacciato. Allo stagno incontrò il ranocchio. Ho tanto freddo, disse il ranocchio. Mi puoi aiutare? L'uccellino diede al ranocchio il suo vestito bianco. Ho altri sei vestiti, pensò, guardando il ranocchio che saltellava felice. Il sesto giorno prima di Natale, il piccolo Robin indossò il vestitino verde e uscì a giocare nella neve. Lungo il sentiero vide arrivare il riccio. Sto congelando, disse quello. Allora Robin regalò al riccio il suo vestito verde. Ho ancora cinque vestiti, pensò, salutando l'amico spinoso. Il quinto giorno prima di Natale, il piccolo Robin indossò il vestitino rosa e uscì a caccia di vermi. Non era andato molto lontano quando incontrò la talpa. Brrr, il terreno è troppo duro da scavare e mi sto ghiacciando, si lamentò quella. Così, l'uccellino regalò alla talpa il suo vestitino rosa. Le andava un po' stretto, ma la talpa non ribadò. Era bello ed era caldo. Mi rimangono quattro vestiti, pensò Robin. Il quarto giorno prima di Natale, l'uccellino indossò il vestito giallo e volò tra i rami della grande quercia. Dove trovò lo scogliattolo? Ho così tanto freddo che non riesco a dormire, brontolò lo scogliattolo. Il piccolo Robin gli offrì il suo vestitino giallo. Ora mi restano solo tre vestiti, pensò, mentre lo scogliattolo si assopiva. Il terzo giorno prima di Natale, l'uccellino indossò il suo vestito azzurro. Stava scendendo in picchiata attraverso le nuvole quando intravide il coniglio sulla collina. Sto battendo i denti dal freddo, disse il coniglio tremando. Allora il piccolo Robin gli dà il coniglio il vestitino azzurro. Bene, mi rimangono ancora due vestiti, si disse, mentre il coniglio riprendeva contento la sua strada. Due giorni prima di Natale, il piccolo Robin indossò il vestitino viola e fece una passeggiata lungo il fiume. Sulla riva c'era la lontra con il suo cucciolo. Era molto triste. Il mio bebè sta male, disse. Il vestitino viola andava a pennello al cucciolo di lontra e lo fece sentire subito molto meglio. Oh oh, mi è rimasto un solo vestito, pensò l'uccellino. Il giorno prima di Natale, il piccolo Robin indossò il suo ultimo vestito di calda lana arancione. Stava camminando fischettando tra sé quando incontrò nel prato un topolino tutto tremante. L'uccellino provò tanta pena che si tolse subito il suo ultimo caldo vestitino e glielo infilò sopra le orecchie gelate. Era arrivata la sera della vigilia di Natale, nevicava e il povero uccellino non aveva nulla di caldo da indossare. L'intorno non c'era nessuno che potesse aiutarlo e la strada verso casa era lunga. Gonfiò le piume più che potè e si rannicchiò tutto triste sopra un tetto pieno di neve. Presto si addormentò e nemmeno le campanelle della slitta lo svegliarono, né lo scricchiolare della neve sotto due pesanti scarponi neri. Due manone lo sollevarono e lo deposero tra una soffice barba bianca. «È meglio che tu venga con me, amico», disse ridendo una vocina allegra. «Questa è la creatura generosa di cui ti ho raccontato», disse l'uomo alla moglie. «Quindi si merita un regalo speciale», ribatte lei. E con l'uccellino accoccolato al calduccio in grembo, la signora si mise all'opera. Tirò un filo di un grande cappotto rosso vivo e con esso lavorò a maglia un vestitino. Grande e giusto giusto per un uccellino. «Sono molto fiero di te», disse l'uomo sorridendo. «Hai regalato tutti i tuoi vestiti per aiutare gli altri. Tu possiedi il vero spirito del Natale e adesso è giunto il momento del tuo regalo. Questo vestito è molto, molto speciale. Ti terrà caldo per sempre e quando la gente ti vedrà, dirà «Guarda, il pettirosso!» e si sentirà scaldare il cuore. Era tempo di partire per riattraversare i cieli mentre il sole sorgeva a baciare la terra. L'uccellino era felicissimo. Il suo petto risplendeva rosso come il naso di una renna. Presto l'uccellino fu di nuovo a casa. «Buon Natale!» gridò l'uomo salutando e volò via. «Addio e grazie!» lo salutò il piccolo Robin. Arrivò la mattina di Natale. Le bambine e i bambini di tutto il mondo stavano aprendo i loro regali. Robin, il pettirosso, volò sul ramo più alto, orgoglioso del suo nuovo vestitino e cantò dolcemente per augurare a tutti «Buon Natale!» Avete capito a cosa sono serviti? Bene ragazzi, spero vi sia piaciuta questa storia. Ci vediamo domani. Ciao! Ciao!